Ciao Nicolò, ciao Carlo, ci stavo aspettando, eh sto arrivando, arrivo, scusa il ritardo, Ciao Nicolò, c'è il mio amico, vuole venire anche lui, dove vuole venire? Alla festa dei fiori, alla festa dei fiori? Flower Power, ah che figata, senti qua va, devo fare finta di non saperne niente, ritorna quindi il mangia dischi, ritorna culinaria, ritorna con due ospiti per quanto riguarda la parte mangia e due ospiti per quanto riguarda la parte dischi. Esatto, come al solito il mangia dischi è la trasmissione che fonde, mescola la cucina e la musica e in questa prossima puntata ci saranno due chef donne, Maria Probst e Natascia Sant'Andrea della Tenda Rossa di Cerbaia nel Chianti Shore. Mentre invece per quanto riguarda la musica ci sarà Serena Ganci e Maurizio Filardo, Serena Ganci ha fondato un progetto musicale che si chiama Iota Tola, inizialmente insieme ad un'altra ragazza, adesso invece questa altra ragazza che si chiama Simone è stata sostituita da Maurizio Filardo, musicista di grandissima esperienza, produttore e anche chitarrista, altra metà del progetto Iota Tola, ospite speciale del mangia dischi. Un gustoso florileggio, quindi per la musica ascolteremo musica dal vivo, anche qualcosa, una playlist speciale di Serena Ganci e poi assaggeremo ovviamente piatti a base di fiori, quindi saranno bellissimi da vedere, ovviamente splendidi da assaggiare perché sono chef Michelin creative, quindi molto interessante. L'appuntamento a culinaria il domenica 18 maggio ore 19 al mercato della Garbatella per la prossima puntata Flower Power. Questo per quanto riguarda il live, però non dimentichiamo anche che il Mangia Dischi lo potete trovare sempre e comunque sia al sito ilmangiadischi.com ma anche e soprattutto sulla sezione dedicata di Rolling Stone Magazine. Esatto, Rolling Stone Magazine che è sempre stato il nostro fido Angelo Custode che ci ha accompagnato, quindi anche sia su Rolling Stone, quindi rollstonemagazine.it che ilmangiadischi.com si possono vedere anche tutte le altre puntate del Mangia Dischi, quelle che abbiamo già assaporato nei mesi scorsi. E oltre a Rolling Stone forse vale la pena di citare con un saluto amichevole, un saluto infarinato diciamo così, anche Molino Quaglia che continua a darci una mano a realizzare le nuove puntate del Mangia Dischi. Esatto, e c'è sempre poi una sorpresa perché sta iniziando questo Bread Religion, Bread Religion che è un... E se i nostri simpatici utenti che ci guardano là fuori vanno su mangiadischi.com o su rollingstonemagazine.it troveranno già una puntata che si chiama Bread Religion. Esatto. Gli eviterà qualche cos'altro. Esatto, esattamente. Quindi, vabbè, vi aspettiamo a questa puntata, a questo florileggio d'amore. Flower Power. Flower Power. Il Mangia Dischi. Ciao. Peace and love.